Allora questo è il video post-Napoli, Fiorentina-Napoli e adesso sta per finire anche Purtroppo non posso vederla, è Parma-Inter perché c'ho Sky e non ho il grandissimo DAZON e quindi non posso vedere direttamente, sto seguendo se non sbaglio Trevisani che fa la telecronaca indifferita, sono 1-0 per l'Inter, ho guardato un po' le statistiche, niente, finisce qui, penso che sia finita qui, siamo al 94esimo, ho guardato un po' le statistiche della partita, ho seguito la partita in questo scenomodo perché sinceramente di pagare DAZON e di pagare Sky che già di per sé ha un contributo abbastanza elevato non mi andava, niente da dire, forse io penso una cosa che il Parma dopo domenica scorsa, o sabato non ricordo, comunque dopo il punto conquistato a Torino con un punteggio di 3-3, con 3 gol fatti su 3 tiri, penso che non conquisterà più punti da ora alla fine, sto scherzando però sinceramente penso che effettivamente il Parma abbia fatto domenica scorsa, sabato scorsa quella che era una prestazione un po' anche sculata, no, per carità, cinica perché 3 tiri, 3 gol, comunque ha portato un 3-3 contro la Juve e penso che lì Parma abbia finito il campionato perché ora, almeno dalla telecronaca, io purtroppo posso dare solo voti a questa partita dalla telecronaca, mi è sembrata una telecronaca, un Parma molto spento, con qualche azione offensiva imbastita malissimo, e una volta che hai tolto la velocità di Cervigno e l'altro Biabiani, vabbè Biabiani, e una volta che hai tolto quelli, praticamente il Parma non c'è più, quasi non esiste più, quindi un 1-0 che secondo me ci sta, per me poteva uscire pure un risultato più ampio da parte dell'Inter, tra l'altro segna Lautaro Martinez che sicuramente farà felici gli interisti, farà meno felici però quelli che vanno a favore di Cardi, perché non so cosa sia successo a Di Cardi, che io reputo un grande bomber, non un campione, però effettivamente non segna da, mi sembra, 6 partite, che è tanto per i Cardi, o 6 o 7 partite, non lo so da quante che non segna, comunque ha 9 gol stagionali, pochi rispetto, anche Mertens ha 9 gol stagionali. Le statistiche, inutile che sto raccontarle, c'è un 67% di possesso parla dell'Inter, io ripeto, secondo me l'Inter ha fatto un'ottima partita, non un'ottima partita, la vittoria ci stava, assolutamente, quindi nulla da dire, il Parma secondo me ora inizia in una fase un po' più discendente, anche se si salverà, penso che si salverà abbastanza facilmente, perché comunque ottimo i giocatori il Parma. Invece oggi ho visto Fiorentina-Napoli, una partita bellissima, bellissima fino a un certo punto, perché poi al settantesimo in pratica la Fiorentina ha iniziato a giocare con 9 uomini, perché in pratica è entrato Miraias e si è fatto male, ed è dovuto sostituire, finivano le sostituzioni perché erano entrati già Vito Rugo, non ricordo, un altro giocatore comunque, a Simeone e in pratica la Fiorentina si è trovata a giocare gli ultimi 15 minuti con Pezzella che si era infortunato, Miraias che è dovuto uscire, è entrato Simeone al suo posto e con un altro giocatore, Muriel che praticamente non ce lo faceva più, Muriel è un grandissimo giocatore ma ha una pancetta esagerata e niente, alla fine però c'è stato uno 0-0 che secondo me sa molto di beffa, perché il Napoli ha avuto occasioni d'oro, ha avuto occasioni veramente ottime per vincere la partita, Mertens, ricordo Mertens, quella l'ho vista perché su Sky la fa vedere, ricordo Mertens due volte davanti al portiere, in poche parole davanti alla Font, questo ragazzo del 99 che in pratica è un, secondo me, quando non importa, la Font è un fenomeno, poi magari forse sulle uscite sbaglio un po', però importa e veramente ha dei riflessi eccezionali. La partita è stata molto combattuta, c'è da dire, hanno veramente lottato fino al 75esimo, nel momento in cui poi sono cambiate le cose e lì si è trasformato, si è messa male per la Fiorentina, infatti pensavo che il Napoli l'avrebbe poi vinta, tante occasioni anche una di Milik che ha sbagliato, è arrivata la notifica che l'Inter ha vinto, 1-0 con il gol di Lautaro Martinez. Niente, Fiorentina-Napoli anche lì, secondo me, la vittoria l'avrebbe meritata il Napoli, non per una questione di passione del calcio, cioè avrei voluto che lo scudetto fosse rimasto in bilico fino alla fine, se la Juve domani dovesse vincere, questo non penso potrà più avvenire, già ora le speranze erano poche, se dovesse ritornare a 11 punti la Juve non penso che ci possa essere un ritorno da parte del Napoli. Il Napoli però che ho trovato un po' scarno nell'attacco, Mertens soprattutto mi è sembrato pochissimo brillo, è sembrata la brutta copia del giocatore che l'anno scorso invece, negli anni comunque di Sarri ha fatto benissimo e io ricordo perché avevo al fantacalcio, quindi la godura di avere Mertens. Invece ora, non so, mi è sembrato poco cinico davanti alla porta, davanti alla porta poco determinato mi sembrava, lì si va con più cattiveria. È entrato Milik che ha fatto buone cose, il Napoli gioca diversamente ovviamente con Milik, ma secondo me col sistema di gioco che attualmente Ancelotti è meglio forse Milik rispetto a Mertens, perché il Napoli gioca molto meno palla a terra, gioca molto più sulla verticalizzazione diretta, gioca molto più sul, mi duele dirlo, ma gioca molto più all'italiana, su un contropiede fatto per bene, allestito per bene, perché quello del Napoli non è un contropiede da squadra piccola, è un contropiede fatto bene, cioè recupero palla e istantaneamente verticalizzazione. Detto ciò, secondo me Milik ci sta meglio in questo tipo di calcio. La partita è finita 0-0, per me, ripeto, il Napoli poteva e meritava secondo me di vincerla, diciamolo, però anche la Fiorentina ha avuto qualche occasione, sugli episodi, sugli episodi, nulla da dire, non c'era alcun tipo di episodio. Mai come questa volta ho sentito qualche volta la telecronaca di Caressa e Bergomi, qualche volta fa riferimento qualche VAR che doveva essere usata. Cioè, le partite, le partite quando sono così scorrono bene. Cioè, vedete, la VAR, il VAR, come volete chiamarla, è uno strumento bellissimo, però la partita, perché riduce gli errori, però la partita senza l'intervento di queste strumentazioni, senza comunque questi tipi di interventi, senza queste continue interruzioni, scorre bene, no? Tu guardi la partita e te la godi, godi le azioni, i ribaltamenti di fronte. Non ci sono stati, fortunatamente non ci saranno stati errori arbitrali, perché le decisioni sono state tutte giuste e, niente, detto ciò, la Fiorentina qualche azione l'ha imbastita, ma anche lì il processo vale il 64% per il Napoli, però c'è da dire che la Fiorentina ha fatto più tiri, se non sbaglio anche più tiri in porta rispetto al Napoli, oddio, comunque giocava in casa la Fiorentina, quindi qualcosa in più la poteva farlo. Detto ciò, domani non so quale, sicuramente il Milan vedrò, vedrò la Juve forse, dipende, però sono interessato a vedere, sarei interessato a vederla Juve perché non sa solo Juve, lì, se non sbaglio, sa solo, quindi non è facile, non è semplicissima sa solo Juve, quindi sarebbe bello vederla, soprattutto vedere come la Juve giocherà dopo che c'è stato questo mini periodo di flessione che però è un periodo che sta capitando a tutte le squadre europee, basta pensare che il PSG ha perso la prima partita dell'anno in campionato 2-1. Oggi ho visto anche, breve parentesi, Atletico Madrid, Real Madrid, che l'Atletico Madrid non mi è sembrata questa squadra di cui tutti parlano, soprattutto per quanto riguarda la Juve in Champions. Secondo me la Juve, se gioca da Juve e fa la Juve, può vincere sia lì sia al ritorno, secondo me. Non mi è sembrata una squadra molto... non so, il gioco, ma quella forse nemmeno la Juve, mi è sembrata proprio poco dura come squadra, non saprei dire esattamente, però mi è sembrata poco consistente. Infatti la Real Madrid diciamo che non ha avuto tantissimi problemi, ecco, anche in fase offensiva non è che abbia fatto chissà chi l'Atletico Madrid. Quindi domani voglio cercare di vedere solo Juventus. Per oggi queste sono state le partite più interessanti e quindi ci becchiamo per le prossime partite.